Una pizza deliziosa. L'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Via L'Europa 82 a Castellammare di Stato. Passione, tifo, goleardia, buon cibo e anche un pizzico di rabbia per le tante incertizie subite. Questi elementi dell'evento organizzato allo Stadio Romeventi dalla Curva Sud. I supporter stabbiesi, dopo un anno trascorso ad incitare la Juve Stabbia, non hanno dimenticato il triste epilogo della stagione. Con il clamoroso gol regolare annullato a Ripa nel match interno contro la Reggiana. Da qui l'idea di protestare, in modo pacifico e divertente, contro l'ennesimo torto subito dalle Vespe. I tifosi hanno prima imitato Ripa e compagni con una simpatica partita sul sintetico del menti. Per poi rifocillarsi a termine del match con una grigliata. Panini, carne, birra e tanta allegria per i tifosi della Juve Stabbia. Una serata festante ma con un fondo di amarezza. Tante infatti le ingiustizie che i tifosi stabbiesi hanno dovuto mandare giù negli ultimi anni. Basta pensare alla rete regolare annullata a Tambrosio nei play-out del 2007-2008 contro il Lanciano e che condannò le Vespe alla retrocessione in seconda divisione. Ancora al mancato ripescaggio dell'estate 2013-2014 con il Vicenza preferito alla Juve Stabbia. Gli ultimi episodi sono i più clamorosi. La rete annullata a Gomez al 119 minuto nella gara di Bassano e quello di Ripa contro la Reggiana. Ferite ancora aperte nell'animo di qualsiasi tifoso della Juve Stabbia. Una serata di festa, rabbia e passione all'insegna dello slogan più forti dei vostri torti.